buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi ricominciamo una settimana insieme ebbene oggi lunedì 22 gennaio 2024 e vediamo subito chi è il santo del giorno è un santo spagnolo lo vediamo qui nella grafica visse nel terzo secolo si tratta di san vincenzo di saragozza visse sotto la persecuzione di diocleziano ma anche dell'imperatore massimiano altrettanto feroce e questa persecuzione fu veramente molto molto determinata anche in spagna vincenzo che era diacono fu arrestato e torturato con lo stiramento delle membra e le frustate fu poi mandato al rogo il supplizio ottenne anche la conversione del carceriere che poi si convertì chiedendo il battesimo quindi un atto estremo per quanto riguarda la sua morte nei confronti dei suoi persecutori questo è san vincenzo di saragozza le previsioni del tempo il barometro salza questa mattina avremo dei cieli sereni su tutta la regione avvio di una settimana soleggiato con una nuvolosità in aumento nelle ore serali però insomma nulla nulla di grave c'è anche la possibilità di locali piogge o piovigini un po nell'entroterra ma insomma la situazione rimane buona il mare leggermente mosso i venti sulle coste arriveranno da ovest nord ovest mentre nell'entroterra da sud est le temperature un meno uno meno uno è la minima e otto gradi la massima invece il sole sorgerà alle 7 e 35 e tramonterà varcando un'ora rispetto alla settimana scorsa alle 17 01 insomma eravamo alle 16 ora siamo arrivati alle 17 leggermente si allungano le giornate di luce e ciò detto passiamo a alla lettura dei giornali davanti a noi questa mattina abbiamo la prima pagina del resto del calino con il sunto di tutte le notizie delle province marchigiane ecco vediamo quella di pesaro dove si rievoca ancora la strabiliante giornata di sabato con l'inaugurazione di tutte le iniziative del programma diciamo così delle iniziative organizzate per la capitale nazionale della cultura con la presenza prestigiosa del presidente della repubblica sergio mattarella e poi tutti gli altri spettacoli ne parleremo dopo la lunga notte della capitale 2024 giornata da brividi intitola il resto del calino da mattarella la musica e dalle 11 del mattino alle 3 di notte insomma circa 20.000 persone hanno presenziato a tutte queste iniziative si sono alternate all'arena per la cultura e poi abbiamo le altre notizie ci sono stati problemi in una partita di calcio pugni in faccia al cacciatore avversario il match sospeso un analogo episodio è accaduto a Senigallia poi lo vedremo e poi pianeta giovani totem all'asta totem è un centro giovanile la giunta rilancia pronti altri due progetti e vediamo quello che accade anche nelle altre province in Ancona abbiamo un episodio di cronaca Andrea il fidanzato indagato per omicidio ressi in campo nel casolare dove è stato trovato il corpo di questa giovane di cui si erano perse le tracce diversi anni fa sono state ascoltate le persone che fecero le ricerche tutti i nodi irrisolti quel casolare dove è stato trovato ora il corpo di questa giovane era stato oggetto di controlli ma allora non era stato trovato nulla e forse si pensa che il corpo sia stato poi trasportato in quel luogo in un secondo momento ma tutto questo è ancora da stabilire suicida in cella a 25 anni un episodio drammatico la madre insorge c'è chi non ha fatto nulla per evitarlo c'è un'inchiesta per questa vicenda molto triste follia in via De Gasperi lite e pestaggio per il parcheggio un cinquantenne va all'ospedale vediamo anche le notizie di Ascoli e di Fermo per quanto riguarda Fermo muore a 78 anni l'ex sindaco Tartufoli fu sindaco di Montegiorgio affermo ancora truffe finti acquisti e assicurazioni la truffa corre in rete tre finiscono nei guai e poi abbiamo uno studio della CGA inflazione e aumenti Ascoli sopra la media nazionale è un'indagine che è stata effettuata non tralasciamo la provincia di Macerata vediamo che il carovita in tutta la provincia produce un rincaro considerevole persi 928 milioni in potere di acquisto da parte delle famiglie a Monte San Giusto si rievoca la strage in cui morì il Borsellino scoperta una targa per gli agenti di scorta e poi in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio abate una piazza piena di animali e di loro padroni ovviamente perché è un rito questo che attira tantissime persone allora apriamo il giornale vediamo la pagina che riguarda Pesaro e vediamo questa notizia del totem di questo centro giovanile che va all'asta con tanto dispiacere per tutti i giovani che lo frequentavano totem all'asta Pozzi l'assessore nulla andrà perso anzi i centri saranno due ma c'è l'incognita dei tempi dunque a Villa San Martino vediamo che non dovrebbero scomparire i centri di aggregazione anche se questo edificio questo qui andrà all'asta ebbene c'è un problema che deve essere risolto comunque Pozzi l'assessore del fare Riccardo Pozzi ha detto che l'asilo di via Leoncavallo e l'altro alla scuola Manzoni sono oggetto di due progetti che valorizzeranno questi centri quindi Villa San Martino non resterà all'asciutto all'indomani delle proteste che si sono levate nel quartiere da parte delle famiglie dei ragazzi che temono di aver perso veramente una risorsa per il loro quartiere c'è questi nuovi progetti queste nuove idee che rafforzeranno anche la presenza appunto di queste istituzioni nel centro del quartiere e poi vediamo la pagina dedicata all'inaugurazione di tutte le iniziative di Pesaro capitale nazionale della cultura made in Italy ma internazionale Pesaro capitale festa per 20.000 persone Rosa Chemical fa ballare fino alle 3 di notte intanto le agenzie straniere rilanciano l'evento oltre i nostri confini una bella iniziativa di promozione e vediamo che dopo le 8.000 presenze che ha fatto segnare la visita alla presenza di Mattarella all'interno della Vitifrigo Arena si sono avvicendati 5.000 persone per il concerto di Gazze e 2.000 per quelle di Casa Dei e poi quello di Chemical non si è ancora spento dunque l'entusiasmo per la grande cavalcata di sabato all'Arena dove dalle 11 del mattino alle 3 di notte si sono alternati diversi appuntamenti in programma una capitale che balla hanno detto il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco Daniele Vimini grazie a tutti i protagonisti di questo bellissimo e indimenticabile spettacolo di questa bellissima e indimenticabile festa ora si tratta di prolungarla per tutto l'anno magari cercando di mantenere il livello di questa promozione perché può essere che dopo questa esplosione di interesse e di notorietà le cose un po' si adagino e quindi un po' si spenga l'entusiasmo che ha caratterizzato questo inizio di un'avventura molto molto bella e dobbiamo dire anche molto coinvolgente perché poi coinvolgerà anche molti comuni della nostra provincia e qui vediamo quello che è accaduto durante la partita tra Tre Ponti e Maroso Mondolfo pugno all'avversario volano tre denti calciatore all'ospedale è successo sabato l'arbitro spintonato ha sospeso il match Scatolini valutiamo la querela ha dichiarato il rappresentante del Maroso Mondolfo un episodio dequalificabile ovviamente in campo non bisogna usare questi metodi e ora vedremo che cosa accadrà ma la notizia al centrale è quella che evidenzia un dramma ben più profondo muore nel suo letto a 30 anni il corpo trovato dal padre si tratta di un ragazzo un giovane 30 anni Riccardo Sciauo figlio dell'annoto avvocato Sergio Sciauo ebbene è stato trovato esanime nel suo letto dal padre nella sua abitazione non si è più risvegliato è stato trovato ieri mattina e ora nella vicenda indaga la polizia è stata la famiglia stessa ad avvertire la polizia il commissariato di Fano che ora valuta le case le cause della morte ebbene Riccardo Sciauo gestiva una palestra in via Fanella ed era un giovane amante del culturismo del body building insomma era anche istruttore di queste pratiche muore nel suo letto a 30 anni il corpo trovato dal padre probabilmente verrà fatta l'autopsia adesso vedremo che cosa decideranno gli inquirenti ma dovranno capire quello che è veramente accaduto a questo giovane e poi parliamo parliamo di politica perché la uscita che ha fatto la segretaria provinciale del partito democratico Rosetta Fulvi nel scorso fine settimana ha un po' aperto un negoziato tra il partito democratico e i cosiddetti progressisti infatti Rosetta Fulvi che cosa ha detto ha detto ha invitato in sostanza il partito democratico di Fano rinunciare alle primarie e questo è stato ben accolto da parte dei progressisti per cui parla oggi sul resto del Carlino Marta Ruggeri che è la capogruppo in consiglio regionale ed è anche responsabile provinciale del suo partito ebbene Marta Ruggeri accoglie molto bene questo invito della Rosetta Fulvi e apre anche una possibilità di dialogo e di accordo tra i progressisti e il partito democratico con gli altri partiti ormai sappiamo benissimo che è rimasto poco accanto al partito democratico dopo che azione è passata con i progressisti è rimasto quasi poco insomma poco non dico niente ma insomma è rimasto poco ecco diciamo così vediamo anche le altre notizie passiamo a Macerata vediamo gli effetti della inflazione 7 mila euro in meno sui contocorrenti delle famiglie maceratesi ebbene oltre alle bollette e al carovita aumentano aumenta anche l'inflazione e si perde il potere di acquisto e questa è una vicenda molto molto grave invece consoliamoci con questa bella fotografia che viene pubblicata sulla pagina di Macerata festa del protettore Sant'Antonio piazza piena per benedire gli animali e qui vediamo anche gli animali in braccio ai loro padroni in modo prevalente sono sempre i cani ma non mancano anche gatti canarini criceti tutti gli animali che si tengono in casa prima di chiudere voglio segnalarvi sempre sul resto del Carlino questo incubo di truffe online che serpeggia un po' in tutte le province marchigiane assicurazioni false questa volta raggiri questa volta sono stati però denunciate tre persone si tratta di due uomini e una donna che attraverso degli annunci internet sono riusciti a farsi sborsare denaro dalle proprie vittime e i carabinieri sono in azione vediamo anche le notizie ora che pubblica il Corriere Adriatico passando per prima attraverso lo sport e vediamo che insomma è andata così così per la visse è andata invece molto male per il Fano Calcio visse un altro punto pesante è stato guadagnato sulla Cararese concludendo la partita 0 a 0 i biancorossi centrano l'ottavo risultato utile consecutivo fermando sullo 0 a 0 al Benelli la Cararese si allunga dunque l'astinenza delle vittorie in casa e questo ovviamente è negativo ma arriva un pari importante nell'ottica della corsa alla salvezza quindi un risultato che viene considerato utile e anche su quest'altra pagina un risultato più giusto invece non va affatto bene per il Fano Calcio che ha così combattuto con il cuore ma questo non basta a Riccione ha subito un K.O. pesante il risultato è stato Riccione United Riccione 3 Fano 1 un'alma in formazione rimaneggiata lotta passa in vantaggio ma poi si fa rimontare e con una bella batosta insomma 3 gol dopo che l'alma aveva segnato il suo gol 1 il commento di Cornacchini non vogliamo mollare il tecnico Granata fatto il massimo nonostante i problemi e vediamo anche cosa ha fatto la Vigor la Vigor che fa uno scivolone la Vigor Senigallia che fa uno scivolone inatteso con il Matese perde fuori casa Matese 3 Vigor Senigallia 2 Rosso-Blu battuti dal fanalino di coda Matese la reazione dal 2 a 0 al 2 a 2 vanificata al 93 e quindi c'è stata questo scatto di orgoglio da parte del Matese che se non se la passa bene in classifica però questa volta insomma è riuscito a guadagnare i suoi bei punti ed ora vediamo invece le notizie che pubblica il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano l'apertura è dedicata al giovane alla tragedia del giovane trovato morto nel suo letto un cultore di bodybuilding si tratta di Riccardo Sciavo qui lo vediamo in palestra ieri mattina alla scoperta dei familiari Riccardo Sciavo aveva il mito del fisico e della salute lo hanno trovato esanime i suoi parenti steso nel suo letto ieri mattina sembrava che dormisse ma in realtà non si è più svegliato uno shock terribile Riccardo Sciavo aveva solo 30 anni una grande passione per l'attività fisica e la sua prestanza aveva attirato anche molti cultori di questa passione possiamo dire nella palestra di via Fanella e ora si dovrà capire per che cosa è morto sul decesso indaga la polizia di Fano e poi vediamo l'altro articolo che riguarda la politica eliminate le primarie dal dibattito così il campo largo sarà possibile è una dichiarazione di Marta Ruggeri capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Marche che approva il monito della segretaria Rosetta Fulvi del Partito Democratico segretaria provinciale intanto Volte lascia il centro-sinistra per i progressisti ebbene voltare pagina c'è ancora spazio per fronteggiare il centro-destra che si sta coagulando attorno a Luca Serfilippi anche se il tutto è ancora da formalizzare però insomma quella è la figura che al momento fa un po' da prestanome da riferimento a tutto il centro-destra c'è ancora possibilità di contrastare questa figura dicevo con una coalizione che aggreghi tutto il centro-sinistra ebbene è una bella competizione e vedremo alla fine chi la spunterà torna il Bacalà Fest si sfidano gli chef di tutte le marche raddoppiate le iniziative non solo ristoranti locali ma anche gare in cucina ci sono due appuntamenti importanti uno il Giro Bacalà che inizierà il primo febbraio e si prolungherà per tutto il territorio con promozioni da parte di una ventina di ristoranti del territorio fino dicevo al 30 marzo e poi abbiamo abbiamo due di sfide importanti sulle piatto del Bacalà e dello Stoccafisso prima si sfideranno gli amatori e poi gli chef professionisti tutto questo in un locale di Metauriglia è la lanterna di Flavio Cerrioni che era presente al momento della presentazione del Bacalà feste che viene organizzato dai viandanti dei Sapori e qui abbiamo invece nella pagina della Val Cesano quanto è accaduto a Mondolfo scoppia la rissa in area di rigore difensore colpito perde tre denti sfida di terza categoria l'amaroso Mondolfo accusa i tre ponti fatti distorti il giocatore è stato espulso insomma un fatto che non dovrebbe accadere ma noi vediamo invece quello che è accaduto a Piagge non è che è accaduto a Piagge insomma quello che si rileva da Piagge diciamo meglio perché a Piagge abbiamo un tesoro culturale storico di grande importanza abbiamo un ipogeo un ipogeo che sta suscitando veramente la curiosità di tante persone che giungono anche da fuori regione per visitare questo bellissimo luogo un luogo che viene custodito e viene anche così valorizzato dai volontari della Proloco e che ha collezionato circa duemila presenze dall'Italia e dall'estero nel corso del 2023 un risultato veramente importante per un'opera di valorizzazione che ha così ottenuto lo suo scopo il suo successo e qua vediamo invece la pagina di Senigallia dove come è accaduto a Mondolfo anche qui abbiamo una zuffa nel campo sportivo spinte e insulti arrivano i carabinieri dopo il pari scoppia la zuffa un gol degli ospiti nei minuti di recupero caos nel match tra Ostravetere e tre castelli squalifiche in vista dunque un pareggio al 93esimo ha scatenato il parapiglia in campo e tra i giocatori sono volati insulti e spintoni per il timore che la situazione potesse degenerare sono chiate chiamate le forze dell'ordine però insomma tutto poi si è ridimensionato ma ovviamente ci saranno ripercussioni di carattere punitivo immagino per quello che è accaduto in campo a questo punto vediamo anche le notizie pesaresi sul Corriere Adriatico dove ovviamente si parla ancora e se ne parlerà per diverso tempo credo della festa di sabato scorso festa per quasi 20.000 e ora subito al lavoro partono i primi progetti capitale della cultura oggi il vice sindaco Vimini presenterà Oceano Adriatico e vediamo qui i momenti della festa il trenino con il sindaco Matteo Ricci durante l'esibizione dell'orchestra di Casa Dei e qui poi abbiamo una foto di gruppo di tanti protagonisti di Once a Year sotto ancora Rosa Chemical un concerto che si è prolungato come abbiamo detto fino alle 3 di notte ancora sul Corriere Adriatico vediamo quello che sta accadendo nel mercato ambulante e il mercato delle erbe che è stato trasferito nella nuova sede di via Gavardini più clienti hanno così evidenziato gli ambulanti più clienti al mercato delle erbe ma servono però delle protezioni per il freddo e per la pioggia perché forse la situazione logistica non è delle migliori e anche gli ambulanti hanno diritto insomma di preservare la loro salute ed è quello che chiedono all'amministrazione comunale la quale ha risposto che cercherà di provvedere in modo adeguato sosta porta capocina lavori subito eseguibili voto all'unanimità in consiglio comunale per l'area dietro la stazione un'area importante per tutti i parcheggi Pese lo sappiamo ha difficoltà nel suo centro storico che poi ci sono i posti disponibili sono quasi tutti a pagamento e quindi un'area importante come quella di porta capocina deve essere messa a disposizione nel migliore dei modi e vediamo anche la pagina di Urbino la pagina di Urbino dove l'accorpamento scolastico tra la Pascoli e la Volponi fa a discutere è l'inizio di una reazione a catena è stato detto Partito Democratico e Vivo Urbino temono per i posti di lavoro e la qualità dell'istruzione domani ci sarà un'assemblea un'assemblea alle ore 21 organizzata dal partito democratico locale che ha chiamato a raccolta genitori docenti personale scolastico e la cittadinanza nella sala incisori del collegio Raffaele questo è un appuntamento appunto che richiama l'attenzione della città ducale e con questa notizia noi chiudiamo i giornali terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento questa sera per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 al TG di Fano TV occhio alla notizia e domani per una nuova rassegna stampa grazie per l'ascolto a risentirci grazie per la visione